Devo darvi una brutta notizia ragazzi, ho brutte notizie in questo videogioco Injustice Gods Among Us visto che stiamo facendo una missione Starlab per Doomsday. Flash è stato infettato con un agente tossio ma questo non fermerà Doomsday, l'ultimo a essere colpito sarà infettato dal virus. Non mi piacciono i personaggi infetti, capite? Purtroppo il virus infette. Diciamo abbastanza con questa storia del Covid-19, emergenza coronavirus. Ma io voglio essere vaccinato, capite? Presto sarò vaccinato e passerò alla vaccinazione. Meno male che c'è il vaccino anti-Covid. No, perché l'hai fatto Flash? 15% rigenerazione salute. Oh, vittoria! È finita! Il nostro mostrone grigio Doomsday ha sconfitto il velocista scarlatto Flash anche se era infettato. Anche se era infetto. Non so come si dice. Vabbè, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Fatelo sempre, mi raccomando. Non scordatevi Costanza Films.